ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video e 1 e 2 e 3 cosa faremo oggi andremo a creare un piccolo e semplice impianto 12 volt 230 volt utilizzando un inverter che è quello che visto negli scorsi video è un 600 watt ad onda sinusoidale modificata e ingresso qui uscita qui e questa invece ragazzi un pacco batterie 12 volt che ho realizzato io due annetti fa box in plastica isolata questo è per un impugnatura e per trasportartela anche in esterni polo positivo polo negativo display a led che mi indica lo stato di carica della batteria che al 50 per cento usb più connettore per ricaricare il pacco batterie interno il pacco batterie interno ragazzi l'ho fatto con celle 18 6 e 50 e niente questa è un'uscita così che ho inserito per andare ad alimentare delle luci e ora invece vado a mettere questo e ti mostro come andare a fare un semplice impianto 12 volt 230 volt andiamo a eliminare per il momento il connettore e sul polo positivo andiamo a mettere il cavo colore rosso mi raccomando il colore dei cavi e anche di buona sezione io prendo questi perché tanto è un impiantino così momentaneo solo a scopo didattico prendi l'inverter polo positivo polo negativo eccoli qua qua ci abbiamo la ventolina vai a collegare io qui ho le pinzette a coccodrillo occhio a non fare cortocircuito anche se il pacco è dotato dell'elettronica di protezione che proteggerà su eventuali corto 1 e 2 ok connessione ok andiamo a provare l'accensione led verde acceso perfetto ora possiamo provare a collegare un alimentatore questo è un caricabatterie per video 12 volt come vedi vediamo se riesco a farti vedere la luce tutto acceso spegniamo ok se spento accendiamo e si accende come visto e l'impianto 12 volt semplice è questo e puoi andare ad alimentare quasi qualsiasi cosa poi tutto è normale dipende dalla batteria che usi e dall'inverter che usi per esempio questo se vai ad alimentare un autoradio uno stereo 220 ti può dare qualche problema perché perché a onde sinusoidale modificata dovresti andare a utilizzare per quello scopo un inverter apposito che si chiama ad onda sinusoidale pura esistono anche sistemi a 24 volti sia come inverter che come pacco batterie il pacco batterie ti ricordo che è customizzato perciò io volendo lo potrei fare anche molto più grande molto più capiente cambiando anche le celle che queste nello specifico se non ricordo male erano tutte da 1500 mAh o da 2000 mAh non ricordo perché ha tanto tempo che l'ho realizzata comunque se io andavo ai tempi a montarlo assemblarlo con celle da 3000 a 3500 poteva arrivare ad avere anche un 30 mAh senza nessun problema perché poi ragazzi come vedi grande qui la larghezza è un po una box davvero grande questi sistemi sono ottimi per portarli anche in giro se fai per esempio una fiera anche se tutto dipende sempre da cosa devi andare ad alimentare perché se devi alimentare delle luci e allora utilizzi sono questa questo non vale la pena perché sprechi energia per niente utilizzi una batteria un connettore con un impianto luci ad alta efficienza 12 volt e avrai diciamo solo una batteria con l'impianto o eventualmente se devi alimentare degli elettrodomestici a 220 e allora ok utilizza un inverter in proporzione alla potenza di utilizzo che devi andare ad avere puoi andare a scegliere il tuo inverter esistono inverter dai 100 watt 200 watt 500 watt 600 watt 1000 watt 2000 watt 3000 watt in base poi a che cosa e quanto devi alimentare i tuoi carichi ragazzi per questo video è tutto mi raccomando iscriviti al canale seguimi ti ricordo di se sei interessato alla tecnologia lidio vai subito su amazon e cerca i miei fascicoli tecnici questo è il 6s questo è un'altra copia del 6s questo è mini impianto ad isola con led qua ti spiego come creare un impianto fotovoltaico con inverter con poi è la possibilità di alimentare dei carichi e delle luci un pacco batteria 7s pacco batteria sempre 7s due copie e fusibili tutte le spiegazioni importanti per conoscere i possibili e poi abbiamo questo è il la versione in inglese e poi un'altra copia del fotovoltaico a isola ti faccio vedere qualcosa internamente come vedi ci sono schemi ci sono tutta la lista della componentistica hai lo schema di assemblaggio del pms è una chiccheria oltre a tutte le istruzioni per andare a saldare hai anche queste pagine sono dedicate al diciamo o